Mi chiamo D'Alessandro Fabio, sono un infermiere, lavoro all'Istituto Ortopedico Rizzoli e sono membro di un gruppo di ricerca delle professioni sanitarie e oltre questo sono membro anche della Faculti Gimbe e in qualità di membro della Faculti Gimbe partecipo a questo corso come tutor di supporto alle attività pomeridiane dei ragazzi. Essenzialmente mi occupo quindi di aiutarli nell'espletamento delle esercitazioni che servono ad approfondire quelle che sono le tematiche discusse in aula a due mattina durante la lezione frontale in plenaria. Questo corso offre a dei ragazzi professionisti sanitari e medici neolaureati o comunque in corso di specializzazione l'opportunità di apprendere tematiche che vengono nel mondo universitario ancora purtroppo trascurate e che sono di importanza cruciale rispetto all'efficacia degli interventi terapeutici che vengono continuamente utilizzate alle prestazioni fornite agli utenti della sanità e quindi si propone di insegnare un processo metodologico che è quello dell'evidence based medicine, evidence based practice per poter così a fronte di un quesito o di una domanda o di un dubbio che possano avere nella loro attività lavorativa futura di poter risalire a quali sono le evidenze disponibili in letteratura e poter così offrire il miglior comportamento, il miglior trattamento riconosciuto fino a questo momento. L'evidence based practice è l'utilizzo delle evidenze disponibili dalla letteratura, dalla ricerca biometrica, quindi saper cercare nelle banche dati scientifiche, biometiche e saper valutare criticamente i lavori che troviamo e quindi essere in grado poi di applicare tali conoscenze nella pratica quotidiana. Il mondo dell'evidenza è sostanzialmente quello che rappresenta il salvagente per la sanità del futuro, è il mondo che ci potrà consentire di portare avanti quegli interventi sanitari di provata efficacia su cui vale la pena spendere e investire risorse e tralasciando quegli interventi che invece non producono degli effetti benefici per la salute della popolazione. Grazie a tutti.